Allora, io volevo dire una cosa brevissima. Il preside nostro ha detto che è bene che la stampa ci sia, sia nei fatti buoni che nei fatti cattivi, ma anche giusto, secondo me, che riporti la verità come sia. Perché ogni persona che io ho sentito mi ha detto una cosa diversa circa l'accaduto. Io trovo scioccante una cosa del genere. Solo questo volevo dire. Grazie.